Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video showcase di Zoro e Ghed livello 100 grazie alle chance card, ne ho due, quindi potremo farci due gameplay del personaggio al 100 speriamo di sfruttarli bene e che ci capino dei compagni pseudo decendi allora facciamo una piccola analisi e poi gameplay allora, signori, Zoro e Ghed skill, skill 1, attacco a lungo raggio, il danno inflitto disgrega le stats di difesa del nemico hanno lo stagger per un certo periodo di tempo, quindi ignora la difesa molto rapida, buona bear dance, attacco a lungo raggio con chance di infliggere a stun knock al nemico se lo stun non è stato applicato il damage inflitto bari in base ai massimi HP che ha il nemico ok, quindi praticamente infligge una percentuale fissa di danni knockback effect, stun activation probabilità 100%, effect time 5 secondi, death ridota del 20% effect time 20 secondi, cooldown 22 secondi il 30% dei massimi HP del nemico infligge perfetto le skill sono buone, le skill sono molto molto buone tratti, annullo e anti stun quando infligge 4 danni in 3 secondi infligge a se stesso il King of Hell Haki per 11 secondi e performa attacco che infligge un danno fisso 10% dei massimi HP quando il personaggio è inflitto con il King of Hell Haki status recupera il 50% di HP quando arriva ad essere al KO e poi ignorare il nemico e capturare il tesoro ragazzi, quando questo personaggio è con il King of Hell status non può essere killato signori, mettetela via quando il personaggio è inflitto con il King of Hell Haki resistenza stagger, knockback e annulla gli status che ti infliggono immobile quindi gli status che ti fanno stare fermo quando i tuoi alleati non sono vicino al tesoro del nemico boost capture speed del 50% resistenza allo stagger quando invece nella tua area ci sono nemici nel tesoro ok, annulla gli status che ti immobilizzano e boost il cooldown della skill 1 del 50% quando cattura un tesoro incrementi, infligge a se stesso il King of Hell Haki status lungo per 20 secondi reduce il cooldown della skill 1 del 30% quando attacchi un nemico con la skill 1 annulla il track che recupera HP ogni volta che arriva a KO quindi tipo ad esempio Zoro Onigashima lo one shotta quindi non recupererà gli HP se va vicino al KO questo qua è il pregi signori non sono i personaggi della vita perché i personaggi della vita sono le extreme ok, quindi questo qua ribadiamolo ribadiamolo però ragazzi sono tanta roba cioè sono bounty festival veramente veramente molto buoni quindi secondo me avere pretese troppo alte se c'è Zoro in King of Hell Haki non può morire ok, non può morire una volta che non ce l'ha allora veramente devi scoppiare perché allora lì viene bisciottato e quindi ci può stare però signori il PG è veramente veramente tantissima tantissima roba ok abbiamo livello 100 quindi let's go vediamo vediamo cosa combina vediamo veramente cosa combina sono curioso sono veramente veramente curioso ok benissimo allora perfetto quindi adesso abbiamo il 20 secondi il nostro King of Hell Haki status cacu sono immortale non mi puoi fare nulla ok benissimo ecco qua mi ha skillato ad esempio eh sì ci sta ok ok no vabbè volevo fruttare perché Oden avrebbe killato capito allora anche se fosse stato nella sua flag ok abbiamo attivato il nostro King of Hell Haki status e ora bravo raga raga comunque a me sto PG veramente diverte un botto nooo nooo minchia non è partito il dodge peccato peccato no raga no raga veramente se lo usate bene sto PG fa veramente spettacoli e adesso che lo sto usando anche al 100 resiste molto di più vabbè ragazzi è stata l'estanza al 100 significano ok nooo stannato va bene dai primo showcase è andato Gigi già ok ok minchia avevamo pure 3 6 nel quadra minchia va bene prossimo match raga let's go let's go let's go ah devo sempre attivare la chance card perfetto ok ok ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ok secondo showcase raga let's go ultimo che possiamo fare al 100 ultimo che possiamo fare però tranquilli giocheremo in live quindi lo svisceriamo bene su zoro anche perché è il mio personaggio preferito quindi se non zoro chi dobbiamo sviscerare raga ok mamma mia mamma mia mamma mia due snake e due roger GG ok ok allora mi tolto lo slancio eh ok no perché mi sarei buttato la terza eh però scommetto che roger mi avrebbe mi avrebbe cialato il posto va bene tanto non posso morire roger quindi mi cambia veramente poco no ma è tu godo 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 mamma mia mamma mia che bello il king of hell status che bello il king of hell status mamma mia quanto mi fa godere il king of hell status no raga sto qua il mio personaggio perfetto cioè è veramente troppo divertente da giocare no king maledetto non t'ho visto no raga non l'avevo visto parca miseria compagni per favore reggete dovete reggere perché sennò parliamo 5 a 0 oh no buono 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 vai king provaci provaci king godo godo mamma mia godo buono ragazzi stiamo stiamo controllando la situazione ok ecco 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 l'ho con il recovery block ci può sottare anche se siamo nello status del king of hell quindi all'ho veramente dovete stare attenti godo godo mamma mia godo che partitona abbiamo cucinato qua raga ragazzi ragazzi bisogna usarlo con la testa bisogna usarlo con la testa punto ok vediamo se lo pigliamo gg 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 mamma mia raga quanto mi piace sto pg mi piace veramente un botto veramente mi piace un botto sto pg raga troppo divertente troppo troppo divertente devo capire se mi piace più di giocarlo di zoro un igashiva però veramente wow bello 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 peccato per le pull che sono andate male però per il resto veramente mi diverte un botto signori questo è zoro e gg livello 100 io spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando ragazzi massimo supporto visto che veramente l'ho fatto anche per voi questa volta e niente noi ci vediamo con i prossimi video s-hawk gameplay livello 100 arriverà arriverà anche la nuova tirelist perché con s-hawk s-snake zoro e il meta secondo me ha avuto un bel po' di cambiamenti quindi mi raccomando state sintonizzati e noi ci vediamo con il prossimo video bella boys let's go